Continua la discussione in Commissione Bilancio al Senato sulla legge di stabilità e per bene due volte il governo è andato sotto, la maggioranza non c'è stata grazie alla Lega Nord. Sì, il voto della Lega Nord è stato determinante, il rammarico, l'evidenza dei fatti è che questo governo non ha una maggioranza, questo governo oltre ad essere confuso nei contenuti in quanto la legge di stabilità dice niente, anzi una cosa dice che aumenteranno le tasse per gli italiani, ma questo governo non ha una maggioranza. Ieri su due emendamenti in cui la Lega è stata appunto determinante, il governo ha dimostrato rigidità e questa rigidità gli si è rivoltata conto perché di fatto è andata sotto due volte, per cui voglio dire siamo in una situazione caffiana perché oltre a non avere contenuti e portare avanti un discorso, un processo amministrativo, politico amministrativo per quanto riguarda la legge di stabilità inopportuno, non ci sono neanche i numeri per avere la forza di portare avanti qualcosa di non buono, ma non c'è, il governo non c'è, la maggioranza non c'è. Tra le battaglie della Lega Nord non soltanto è quella sulle sigarette elettroniche, ovvero? No, c'è stato questo emendamento proposto da un collega del PD che abbiamo condiviso, il governo ha dato parere contrario, i relatori hanno dato parere contrario, la commissione si è espressa a favore, il governo è andato sotto, per cui il governo vuol far vedere i muscoli ma non ha i muscoli, per cui le prende regolarmente. Grazie a tutti.